Nella mattinata odierna i carabinieri dell'uncleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di 15 indagati, tutti appartenenti al clan d'ausilio, operante nei quartieri di Cavalleggeri d'Aosta, Bagnoli, Coroio e Dagnano. Sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, lesioni personali, detenzione illegale di armi, estorsione, favoreggiamento, ricettazione ed altro. L'11 maggio 2016 il detenuto d'ausilio felice, figlio dello storico capo clan d'ausilio domenico, detto Mimio Sfreggiato, lasciava la casa in reclusione di Tempio Pausania, dove stava scontando la pena dell'ergassolo per reati omicidio ed associazione di tipo mafioso, per godere di un permesso. Una volta uscito dal carcere, autorizzato a recarsi presso l'abitazione della sorella, libero e senza scorta, di fatto ausilio si rese immediatamente irreperibile. D'ausilio felice, sebbene in clandestinità, imponeva il suo predominio per riconquistare il controllo delle attività criminali sui suddetti quartieri e fin da subito si registrò un'escalation di violenze constese, pestaggi, atti intimidatori e dimostrativi posti in essere da soggetti a lui riconducibili per la ripresa e la gestione delle attività illecite sul territorio, in quel momento appannaggio il gruppo Bitonto Nappi. Le investigazioni coordinate alla DDA Partenopea, oltre a consentire la cattura il 19 dicembre 2016 e l'attitante d'ausilio felice e l'individuazione della sua rete ai fiancheggiatori, hanno fatto emergere l'inequivocabile contrapposizione armata in atto tra i suddetti gruppi criminali e la piena operatività del clan d'ausilio, rientrante nella sfera di influenza e di controllo dei licciardi, famiglia aderente allo storico cartello della criminalità organizzata, denominato Alleanza di Secondigliano. Inoltre sono state documentate numerose estorsioni in danno di attività imprenditoriali e commerciali, imprese edili, bar, ufficine meccaniche, lidi balneari, parcheggiatori abusivi, prostitute ed ormeggi di barche, con il pagamento, con cadenza periodica o una tantum, di somme di denaro tra 100 e 50 mila euro. Le indagini hanno permesso inoltre acquisire importanti elementi probatori in relazione ad una gestione mafiosa dei parcheggi abusivi in prossimità dei locali notturni insistenti sull'area freghea, che si concretizzava anche con azioni violente nei confronti degli stessi parcheggiatori, per costringerli a sottostare al dominio criminale e a versare una parte degli introiti illeciti alle casse del sodalizio, con il pagamento di una tangente di almeno 200 euro a settimana. Proprio nell'ambito di questa strategia criminale è avvenuto l'omicidio del parcheggiatore abusivo Enrico Gaetano il 17 giugno 2016, per il quale sono stati raccolti grave indizi di colpevolezza a carico di due affiliati al clan.